delitto bruzzese sentenza rinviata al primo giugno nuovo ospedale biancani interroga sui presunti ritardi fiorenzuola di focara entra nei borghi più belli d'italia prodotti a chilometro zero a pesaro il mercato coperto col diretti vl obiettivo centrato sabato via i playoff con milano buona serata ben ritrovati al nostro telegiornale oggi è lunedì 8 maggio apriamo questa edizione con la cronaca giudiziaria torniamo infatti a parlare dell'omicidio di marcello bruzzese ucciso a pesaro il giorno di natale del 2018 per una vendetta dell'andrangheta oggi altra tappa del processo al tribunale di ancona con la difesa dei due presunti killer vediamo al tribunale di ancona si è tornati oggi in aula per il processo relativo all'omicidio di marcello bruzzese ucciso il giorno di natale 2018 in pieno centro storico a pesaro davanti alla sua casa di via bovio dove viveva sotto copertura un omicidio che scosse la comunità pesarese al cospetto di un'esecuzione in stile mafioso nel giorno festivo per eccellenza la sentenza inizialmente prevista per oggi è slittata al primo giugno dopo che in aula questa mattina ci sono state tre ore di udienza dedicata alla tesi difensiva dei due presunti sicari francesco candiloro e michelangelo tripodi la procura ha chiesto l'ergastolo per i due accusati di essere responsabile dell'uccisione di bruzzese davanti all'ingresso della sua abitazione pesarese esplodendo 30 colpi d'arma da fuoco la metà dei quali andati a bersaglio una vendetta trasversale nei confronti di marcello bruzzese che aveva la sola colpa di essere il fratello di biaggio girolamo bruzzese pentito di indrangheta secondo l'accusa tripodi e candiloro avevano base a rimini dalla quale si spostavano a pesaro con continui appostamenti per gli avvocati difensori si tratta di un processo basato su ipotesi prettamente indiziarie giudicando lacunoso l'impianto di prove accusatorie nei confronti dei due imputati sia sulla base delle riprese di videosorveglianza nel centro di pesaro sia sull'esame delle schede telefoniche utilizzate il primo giugno la procura esporrà le sue conclusioni le immagini che vi mostriamo ora ci sono state inviate da un nostro telespettatore che ieri con l'utilizzo di un drone ha ripreso gli attimi successivi ad un incidente stradale avvenuto nell'interquartieri di pesaro attorno alle 18 e 30 in zona celletta nello specifico un 45enne residente a villa fastigi ha perso il controllo del suo scooter urtando il cordolo che separa le due corsie di marcia finendo sulla carreggiata opposta è intervenuta l'eliambulanza che successivamente ha trasportato il ferito all'ospedale di torrette di ancona dove è ricoverato ora in prognosi riservata il nuovo ospedale che dovrà sorgere a muraglia è nell'occhio dell'opposizione in consiglio regionale andrea biancani interroga infatti l'amministrazione su presunti ritardi accumulati che metterebbero a rischio i fondi del pnr r proprio in questi giorni ho presentato una nuova interrogazione alla regione mar che riguarda sia il nuovo ospedale di pesaro sia le strutture territoriali mi riferisco a quelle case di comunità ospedali di comunità le centrali operative che devono essere realizzate con i fondi del pnr oggi abbiamo tutta una serie di date che non sono state rispettate per il nuovo ospedale ricordo che il bando di progettazione era stata addirittura annunciato per il 31 dicembre del 2022 c'era stato un accordo ricordo ottobre 2022 tra comune di pesaro e regione che prevedeva delle date è già la prima data siamo come dire i tempi sono stati sforati di almeno 5 6 mesi questa cosa mi preoccupa perché un ospedale doveva essere realizzato o meglio i lavori dovevano partire entro il 2024 ma io penso che sarà veramente difficile perché già i tempi sono sforati sforati di molto dall'altra parte come dicevo i fondi del pnr questi appunto lo che prevedevano c'era stato un accordo il 30 maggio del 2022 quindi lo scorso anno che prevedeva appunto un cronoprogramma ad esempio le case gli ospedali di comunità sarebbero i progetti dovevano essere messi a gara entro il 31 marzo e ancora queste gare non ci sono state come entro il primo trimestre del 2023 doveva essere fissato il via libera cioè la definizione del progetto per le centrali operative complessivamente parliamo di 170 milioni di euro circa per il nuovo ospedale di pesaro e di 14 milioni di euro per le altre strutture ricordo galantara anche a monbaroccio ma ad esempio anche urbino a fano a mondolfo a cagli quindi tutta una serie di investimenti dove venivano create delle infrastrutture delle strutture in grado appunto di tenere insieme tutta una serie di servizi sociosanitari a beneficio dei cittadini però che con date e con tempi che attualmente non vengono rispettati l'altra preoccupazione che ho evidenziato nell'interrogazione è che c'è il rischio che tutte queste nuove strutture restino come dire vuote e quindi delle scatole vuote se non si si avvia da subito ad avviare appunto i concorsi perché ricordo che addirittura è stata fatta scadere una graduatoria di oltre mille infermieri oggi per poter avere una graduatoria con gli infermieri si guarda almeno un anno un anno un anno e mezzo ma poi ci serve la volontà di assumere non solamente infermieri ma il personale medico ma tutto quel personale sociosanitario che è necessario per garantire i servizi che i cittadini attendono da anni ed ora una bella notizia perché fiorenzuola di focara entra nella stretta cerchia dei borghi più belli d'italia un riconoscimento avvenuto all'interno della seconda edizione di we nature festival che potrete approfondire in uno speciale che trasmetteremo in onda domani alle ore 21 e 40 intanto però analizziamo il riconoscimento a fiorenzuola nel servizio di roberta esperide seconda edizione di we nature è importante riconoscimento per fiorenzuola si we nature intanto è stato un successo in questa seconda edizione anche ampliata tre giorni con anche una base su pesaro del venerdì ed è stato veramente un vivere il parco come lo intendiamo in maniera qualificata sostenibile consapevole rispetto all'ambiente e che ha portato veramente tante persone da tutta italia ad approfondire tutti i temi che un parco del genere può rilanciare detto questo abbiamo pensato di fare coincidere anche un evento per me molto importante come la consegna dell'attestato di borgo ospite dei borghi più belli d'italia che è un riconoscimento che spetta diciamo a un comune sopra i 15 mila abitanti per ogni regione massimo e quindi potercelo assegnare per le marche anche un onore e una responsabilità in un luogo diciamo la cui bellezza parla da sé ma che diciamo si è saputo negli anni valorizzare anche qui in maniera sempre sostenibile è un piacere avere con noi oggi i livelli nazionali e regionali dell'organizzazione di borghi più belli d'italia che è una macchina molto importante che di promozione a livello nazionale internazionale amato mercuri presidente dei borghi più belli d'italia per le marche e quindi dato che un grande conoscitore delle marche che cosa ne pensa di fiorenzuola di focara allora innanzitutto fiorenzuola ci fa balzare al primo posto della classifica tra le regioni con più borghi quindi insieme all'umbria arriviamo a 30 e poi è un posto straordinario una una vista magnifica e penso che racchiuda proprio tutti diciamo gli archetipi del borgo marchigiano quindi arroccato sulla collina a guardia del mare fiorello primi presidente dei borghi più belli d'italia fiorello quali sono i requisiti fondamentali essenziali per far sì che poi un borgo diventa il più bello d'italia diventa uno dei più belli d'italia beh intanto la nostra scheda di valutazione comprende ben 72 parametri quindi l'elenco sarebbe troppo lungo però è divisa in quattro blocchi fondamentalmente una che riguarda la bellezza estetica naturalmente essendo uno dei borghi di valutazione deve essere bello alla vista quindi deve essere tenuto bene le facciate curate i monumenti le strade l'arredo urbano e quant'altro poi ci sono i servizi per i residenti quindi se ci sono negozi attività scuole associazionismo il medico di base tutto quello che serve per vivere meglio possibile all'interno di un borgo l'accessibilità quindi tutta una serie di elementi che vanno valutati il terzo blocco sono i servizi per i turisti quindi il sistema di accoglienza di ospitalità la segnaletica la cartellonistica appunto di informazione che tipo di turismo viene viene implementato che c'è importante ci abbiamo messo ultimamente anche gli incentivi per i giovani per andare ad abitare nel borgo quindi il discorso degli affitti il discorso del sostegno alle attività l'ultimo blocco che l'abbiamo aggiunto da qualche anno è la tutela del paesaggio e dell'ambiente circostante il borgo quindi chiaramente è molto complicato essere ammessi all'interno dei borghi per l'Italia perché sono una serie di parametri molto stringenti e che non tutti hanno purtroppo un riconoscimento quello della bellezza di Fiorenzuola di Focara che sembra però stridere con le recenti polemiche sulla maxi antenna 5G installata la scorsa settimana proprio nel borgo lo stesso sindaco Matteo Ricci presente nella due giorni di We Nature ha fatto presente come si stiano studiando correttivi per rendere meno impattante il dispositivo tecnologico nel panorama del borgo ed ora una comunicazione di servizio la regione Marche ha deliberato oggi il nuovo calendario scolastico 2023-2024 nelle scuole marchigiane le lezioni cominceranno il 13 settembre 2023 e termineranno il 6 giugno 2024 saranno pertanto 208 i giorni di lezione nelle scuole primarie e secondarie mentre saranno 228 quelli per la scuola dell'infanzia che terminerà il 30 giugno era già presente nelle principali città marchigiane ed ora anche Pesaro ha il suo mercato coperto di campagna amica si trova in Viaggiolitti dove sabato le nostre telecamere hanno seguito il taglio del nastro che tra l'altro vi mostreremo in uno speciale che andrà in onda questo giovedì 11 maggio alle ore 20.10 quindi lì potrete vedere tutto il racconto di questa grande inaugurazione intanto però vediamo cosa propone questa nuova struttura dedicata ai prodotti a chilometro zero dai campi alla tavola oggi 6 maggio in via Giolitti taglio del nastro per il mercato coperto di campagna amica abbiamo messo un paio d'anni forse due anni e mezzo per realizzare questa struttura questo mercato coperto che con molta soddisfazione e molto orgoglio dico anche molto orgoglio sì soprattutto abbiamo aperto siamo riusciti ad aprire e tra l'altro va a completare una rosa di mercati delle marche previsti appunto in tutte le province che chiude il cerchio perché Pesaro era l'unica città a non avere il mercato coperto quindi facendolo e realizzandolo abbiamo completato anche questo progetto a livello regionale il mercato coperto ovviamente è un mercato diverso dai soliti mercati che facciamo con i gazebo all'aperto perché dà qualcosa in più deve dare qualcosa in più tant'è che abbiamo predisposto un'aula didattica all'interno della quale possiamo invitare per esempio le scuole con il nostro progetto scuola invitare quindi delle classi è stata fatta apposta con 25 sedute più o meno con il leggio proprio per poter scrivere proprio come un'aula didattica dove fare formazione e informazione soprattutto finalmente è il vero chilometro zero vedo già tante persone quindi una bella cosa e sicuramente in tutti questi anni che parlavamo di chilometro zero l'importanza della politica di portare avanti questo discorso anche per mangiare sano e ecco oggi qui concretamente lo possiamo toccare con mano questo è il quarto mercato coperto che la Camera di Commercio ha finanziato al mondo di Campagna Amica crediamo fortemente che oggi più che mai i produttori devono essere più vicini possibili alle comunità aprire questi mercati serve anche a far sì che i prodotti tipici dei nostri territori ma i prodotti di qualità, i prodotti di altissimo valore nutritivo possono essere offerti e venduti alle varie comunità dove loro si sono insediati Maria Letizia Gardoni Campagna Amica, i giovani e il territorio sicuramente sono elementi che rappresentano un'unica medaglia cioè che è la medaglia del valore dell'agricoltura marchigiana Campagna Amica ci aiuta a raccontarlo questo valore ma soprattutto ci aiuta a trasferirlo alle persone e quindi ai cittadini consumatori i giovani allo stesso modo rappresentano un elemento di continuo rinnovamento e di continua evoluzione del nostro settore che negli ultimi anni ha conosciuto un percorso di miglioramento di ammodernamento indiscutibile e questo grazie soprattutto alla sensibilità ma soprattutto grazie alle capacità e competenze dei giovani agricoltori quindi dei nuovi ragazzi che decidono di insediarsi in agricoltura nelle nostre campagne marchigiane e questo rappresenta sicuramente uno dei fiori all'occhiello che abbiamo nel nostro territorio Ed ora cambiamo argomento a Pesaro è iniziata ieri la settimana dedicata alle attività della protezione civile l'evento si sta svolgendo al Parco Miralfiore dove per una settimana fino al 14 maggio i volontari illustreranno i piani d'emergenza dei vari quartieri diverse le attività in programma dai laboratori scolastici ai dibattiti e alle esercitazioni con la speranza di reclutare nuove leve da aggregare al servizio di protezione civile Sempre dal Parco Miralfiore ecco altre immagini che hanno animato la domenica appena trascorsa con Legambiente e Comune di Pesaro che hanno organizzato una giornata all'insegna dell'educazione consapevole Salviamo la Regina è stata l'iniziativa formativa e ludica che ha svelato ai bambini tutto ciò che ruota attorno alle api dagli alveari ai preziosi prodotti che se ne ricavano Dopo aver scampato il pericolo di non disputarsi ieri è andata in scena la diciannovesima edizione della Colle Marathon la Maratona dei Valori da Barchi a Fano che ha visto più di mille persone partecipare al classico percorso di 42 km alla mezza Maratona e a un terzo tracciato da 10 km Primo sul traguardo il 44enne Younes Zitoni alla sua quarta Colle Marathon vinta Fra le donne primo posto per l'Anconetana Silvia Luna Al Campo Scuola di Pesaro si sono invece conclusi ieri i campionati italiani Open Junior e Under 17 di Pentathlon Moderno 180 gli atleti in gara in una domenica che ha visto anche lanciare l'evento promozionale di Parapentathlon una nuova unione inclusiva fra pentathlon e discipline paralimpiche battezzata in Italia proprio nella realtà pesarese E' stato un weekend all'insegna della vela Sabato infatti la Lega Navale di Pesaro ha infatti premiato i vincitori della 37esima edizione della regata Pesaro-Pola La vittoria della 37esima edizione della regata Pesaro-Pola per la prima volta disputata in unica manche è andata a stardust dello skipper Letterio Morabito L'imbarcazione della Lega Navale di Ancona è arrivata prima sul traguardo croato davanti alla ravennate Irina di Maurizio Guglielmo e la pesarese Cicaboba II di Giovanni Gasparini con al timone i figli del compianto Michele Cinquepalmi personaggio di riferimento della vela pesarese partecipante a tutte le edizioni della regata sulla rotta dei Trabacoli A lui è stato dedicato l'applauso della Lega Navale del presidente Antonio Rossini al momento delle premiazioni di sabato Premi a tutte le categorie di scafi con la frequent flyer di Anteo Moroni che ha vinto la coppa della veleggiata e il medico Letterio Morabito che si è preso il trofeo assoluto con la sua stardust Sicuramente abbiamo imbroccato la rotta giusta poi non abbiamo avuto cali di vento particolare e quindi è funzionato bene C'è stata l'ultima sfida con i ragazzi del Cicaboba e i ragazzi di Irina all'arrivo dove siamo arrivati i primi nel segno e siamo riusciti ad arrivare prima E concludiamo il nostro telegiornale con l'obiettivo centrato dalla VL che ieri ha battuto Tortona conquistando l'ottavo posto in classifica e approdando quindi ai playoff contro Milano E allora in questo prossimo servizio vedremo tutte le notizie riguardanti il basket ma andremo a vedere anche cose accaduto in casa calcio a 5, rugby e football americano Obiettivo centrato La VL batte Tortona e complice la riuscita e obbligata combinazione della sconfitta di Brescia approda i playoff per il secondo anno consecutivo Una regular season chiusa all'ottavo posto per gli uomini di Repescia grazie alla quattordicesima vittoria stagionale sulla Bertram terza forza del torneo domata per 82-78 Un urlo di gioia che per i 5.300 spettatori della Vitrifico Arena si può liberare solo qualche istante dopo la sirena di Pesaro ovvero quando da Scafati arriva la notizia della vittoria della Givova capace di rimontare 20 punti di passivo a Brescia che viene sconfitta e relegata al nono posto E allora la gioia del tifo peserese può riversarsi sul parchè dell'astronave tifosi che avranno almeno altre tre gare da osservare fra tribolazioni e speranze quelle dei playoff con la prima della classe Armani Milano quarti di finale che cominciano sabato con gara 1 al Mediolanum Forum si resta Milano per gara 2 di lunedì 15 maggio gara 3 a Pesaro giovedì 18 maggio saranno invece play out per il tal service Pesaro che si giocherà in un doppio spareggio la permanenza nell'Olimpo del futsal italiano la sconfitta in casa del Petrarca Padova per 3 a 1 condanna i biancorossi allo spareggio con il Monastir per difendere la Serie A è girato tutto storto in Veneto con il vantaggio di Tony Dandel maturato nel secondo tempo ad illudere verso quella vittoria peserese che sarebbe valsa la salvezza diretta invece avvilita da rimonta e sorpasso dei Padovani con doppietta di Mello e gol di Oitomeia l'Ital Service chiude così la regular season al dodicesimo posto con 37 punti e con la beffa che al Petrarca Padova non è nemmeno bastata la vittoria perché comunque retrocesse in A2 per la concomitante vittoria del Monastir ora Pesaro avrà due settimane per ricaricare le pile e sabato 20 maggio avrà il primo impegno play out in Sardegna con ritorno al Palafiera il 27 maggio nel calcio di Serie D chiude alla grande la stagione l'Alma Juventus-Fano centrando la quinta vittoria di fila per 2-3 in casa del Notaresco vittoria con le firme Granata di Zingaretti, Drolet e Nappello ora il Fano domenica giocherà alla semifinale play-off in gara unica a Roma in casa del Trastevere finisce con una sconfitta la stagione della Fiorini-Pesaro-Regbi che perde 31-11 in casa di Civitavecchia e chiude il campionato con un onorevole bottino di 38 punti per il sesto posto finale hanno invece nel mirino il primo posto i ranocchi Angels-Pesaro di football americano dopo aver sbancato ieri il campo dei Dovs Bologna 28-14 al termine di un'altra prova convincente primo posto che andrà conteso a eleggio 13esima Roma nell'ultima giornata di regular season il 28 maggio a Pesaro e dopo questa vetrina di sport andiamo a chiudere il nostro telegiornale ma attenzione rimanete collegati con noi sul canale 80 perché questa sera alle ore 21 e 20 così come tutti i lunedì c'è il nostro approfondimento medico check up obiettivo salute questa sera parleremo delle patologie legate alla tiroide e lo faremo con la dottoressa Lucia Mingolla e subito dopo invece cambiamo completamente argomento un programma dove protagonisti sono gli adolescenti del nostro territorio in questo caso andremo a conoscere gli sportivi i ragazzi adolescenti che fanno parte della Montesi Volley quindi vi aspettiamo con Spazio Z alle ore 21 e 40 e domani vi aspetto invece io alle 7.20 in diretta sul nostro canale 80 in diretta anche sul nostro sito internet e sulla nostra pagina Facebook con la nostra rassegna stampa Buongiorno Rossini ed ora vi lascio al meteo per vedere come sarà il tempo nelle prossime giornate e vi auguro anche buona serata Grazie a tutti